Sicur Pimus è la soluzione software di Analyst Group per edigere il Pimus, il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. Sicur Pimus interagisce con i software CAD per allestire il ponteggio direttamente sui prospetti. Contiene l'archivio con i principali blocchi e gli abbachi con i metodi di montaggio, smontaggio e utilizzo del ponteggio. Sicur Pimus è semplice e intuitivo da utilizzare per edigere documenti completi, professionali e aggiornati alle attuali normative.